come non cadere in questo dolore dello sciocco, come far diventare questa una preghiera, una richiesta. Io chiedo al volo che mi correga a me, perché io in questa forma potrò aprire il mio cuore e attraverso il mio cuore il volo potrà avversare tutto il mondo, ogni bene. Il mondo soffre, per quale ragione soffre? Per causa mia soffre tutto il mondo. Per quale ragione lo soffrono? Milioni di persone in tutto il mondo stanno soffrendo di tutte queste cose, tante sofferenze, a causa che io non faccio il mio ruolo come tubo, come connettore nel versare l'abbondanza al superiore a tutta l'umanità.